Marzamemi presentata al comune di Pechino una petizione popolare per intitolare una strada del borgo marinaro a Franco Adelfio. Si è svolto a Marzamemi, piccolo borgo marinaro, luogo di forte attrazione turistica, il quarto Memorial Franco Adelfio, il compianto imprenditore locale che ha contribuito molto allo sviluppo turistico e imprenditoriale del borgo. In 45 anni di duro lavoro, Adelfio, titolare dell'omonima azienda Etica, è stato punto di riferimento obbligato per i suoi concittadini e per i tantissimi turisti che nelle calde estati arrivavano a Marzamemi. Con le sue inventive lavorative, la sua azienda ha contribuito a rendere famosa Marzamemi al di fuori della Sicilia con la passaparola di migliaia di turisti innamorati della sua leccornia. Era anche punto di riferimento per diversi servizi televisivi di Linea Blu e Pianeta Mare, quando si parlava del mare della sua Marzamemi. Durante la sua vita è stato sempre caritatevole con i bisognosi che vedevano difficoltà facendo molto beneficenza oppure incentivando i giovani coppi ad aprire piccole attività imprenditoriali, magari aiutandoli inizialmente. Egli aveva un rapporto quasi continuo con una struttura religiosa di Rosolini e le monache salesiane di Pachino a cui inviava aiuta alimentare per i bambini che loro avevano in custodia. Recentemente è stata presentata al Comune di Pachino una petizione popolare affinché gli sia dedicata una strada della sua Marzamemi, prospicente alla sua attività. L'attuale sindaca ne ha conoscenze e terrà in considerazione la richiesta di tanta gente che lo ha conosciuto. Come l'anima umile di Franco Adelfi avrebbe voluto anche quest'anno. Il quarto Memorial si è svolto in forma sobria con la collaborazione dell'associazione Lavoga di Malzamemi che sta riuscendo a reclutare a sé tante famiglie, dai figli alle mamme ai papà, in un unico soddorizio sportivo. L'appuntamento adesso è per il prossimo anno. Il quinto Memorial. Grazie. Grazie.